Buonasera, siamo al Circo di Produzione Sociale delle Sorelle per l'ultima serata di Nemosa Mente. Stasera una sorpresa per tutte le signore, Elisabetta, che canterà per noi una bellissima canzone, me la presento. Buonasera, io intanto volevo donare questo preanziero alla mia amica Gianna che cance appunto questa serata di Nemosa Mente. che ha fatto un buonissimo buffet, per cui penso un applauso. E' un applauso, appunto, quello che le donne non dicono a tutte le donne, un'impresente e un'altra.